Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Z Toccan Battle, le versioni JAP. Siamo prontissimi, finalmente, per provare insieme la nuovissima LR del Tanabata di quest'anno. Infatti abbiamo Goku Angel e Vegeta Angel con fusione in proprio lui, Super Gogeta. Tra l'altro, ragazzi, artwork pazzeschi per entrambe le versioni della carta. Prima di iniziare però, prima che me ne dimentichi come al solito, se vi piace questa maglietta a tema Attacco dei Giganti, potete trovare il link in descrizione per acquistarla o magari vi lascio anche il link nei commenti. Ve la faccio rivedere. Secondo me è davvero bellissima. Detto ciò, andiamo a leggere la carta insieme perché ha qualcosa di già visto, ma ha una cosa in particolar modo, a livello di meccanica, che non è mai stata mai vista in realtà finora. Allora, Leader Skill, Time Limit o Connected Up, Ki più 3, HP 130% e Attack e Difesa più 170%. Piccolissima parentesi, il suo best buddy in assoluto è Veget STR, cioè Goku e Veget STR con trasformazione in Veget. Purtroppo nessuno dei due riesce ad entrare all'interno delle sue categorie nella Leader Skill. Quindi sia Time Limit che Connected Up. Un peccato, quello sì, però almeno riusciremo a giocarli insieme e vi faccio vedere poi in che team. Anzi, li ho giocati in un Kamehameha, ve lo dico, ve lo anticipo. In modo che li vediamo comunque sotto 170%. Superattacco a Resist Attack e Difesa per un turno, mentre per quanto riguarda la 18 ki, Resist Attack e Difesa per un turno è Mega Colossal, vabbè, praticamente identiche. Mentre passiva, attacco e difesa 120% di base. Riduzione del danno ricevuto del 30%, buonissimo. Alte chance di cambiare randomicamente un tipo di sfere in Rainbow. Ki più 2 addizionale per ogni Rainbow ottenuta e medie chance di lanciare un additional superatta. Come vedete ha tantissimi, tantissimi punti in comune, ad esempio con Veget STR. Ha ovviamente anche l'Active Skill che ci permette di fonderci e fortunatamente è attivabilissima perché si può attivare quando abbiamo 70% o più HP ed a partire dal quarto turno, dall'inizio della battaglia. Come vedete lo giochiamo in un Kamehameha strutturato in questo modo, abbiamo anche un piccolo buffer giusto così tanto per quando ci capiterà e lo giochiamo in rotazione con Veget STR che ragazzi condivide con lui praticamente tutti e dico tutti i link. Fenomenali, fenomenali questi qui. Detto ciò, allora, visto che non otteniamo buff praticamente dalle Rainbow ma otteniamo soltanto i Ki, possiamo prendere tranquillamente queste. Andiamo a dare anche queste altre a Veget STR, poi ragazzi, teretevi forte perché andiamo a leggere Super Gogeta una volta fuso ed ha una meccanica veramente particolare. 3.800.000, così di partenza ovviamente li stiamo provando da ability free e io è la prima volta in assoluto in realtà. Che vedo le animazioni di questa carta perché non me le sono volute spoilerare e già sto vedendo qui un qualcosa di fantastico, molto molto bella veramente quell'animazione. Tranquillamente superiore a questa qui, proprio a livello di qualità. Lì ho visto animazioni, raga, proprio anime quality, movie quality, fantastica, caspita. Va bene, allora, sono curiosissimo di vedere anche la 12 Ki a questo punto perché effettivamente non avendo minimamente visto alcuna animazione, voglio vedere, voglio vederle entrambe. Quindi abbiamo lanciato la 18 Ki all'interno del primo turno. Personaggi, ve lo ricordo, sempre ad ability free, va bene, link skill 10, ok, tutto quello che volete. Però, comunque, pur sempre ability free li stiamo provando. E, onestamente, 3 milioni e 8 di partenza, primo turno, ability free, link skill 10, va bene, mi sembrano un'ottima partenza. Mi sembrano un'ottima partenza e, secondo me, una volta fusi e, ragazzi, fattibilissima come cosa, assolutamente. Una delle active skill più semplici da attivare in assoluto. Dobbiamo soltanto arrivare al quarto turno e, poi, tranquillamente, possiamo ritrovarci al 70% di HP o sopra. Tranquillissima la cosa. Allora, ancora una volta, vediamo anche la difesa su cui prima non ci siamo soffermati. 123 mila di difesa. Vi voglio far notare soltanto una cosa. Come vedete, dall'ultimo aggiornamento del JAP, viene marcata pesantemente la differenza all'interno delle special in melee, come vedete, il pallino rosso, o nelle blaster, insomma, nelle kamehameha. Nelle... sì, se vogliamo, blaster. È una cosa importantissima questa qui, perché ci servirà tantissimo per quanto riguarda la trasformazione di Gogeta. Ora, qui abbiamo sfigato probabilmente l'Orb Manipulation. Vi dico la verità, non è un problema perché, almeno così proviamo a vedere un secondino la 12G. Mi guardo anche le animazioni, visto che non le ho minimamente viste, e vediamo anche quanto carica. Link skill tutti attivi, vediamo. 2 milioni e 3. Vediamo la 12. Ma, molto carina. Molto, molto, molto carina anche la 12. Tremendamente più bella la 18Key, proprio a livello di qualità di animazione, cioè proprio a livello anche di qualità degli assets. Bella, bella, bella. Però, veramente non male anche questa 12. Detto ciò, siamo al quarto turno, come potete vedere. In teoria, prossimo turno, noi dovremmo già essere in grado di attivare la Fusion. Vediamo. Oltretutto, carta, ragazzi, che è molto, molto semplice da provare, ecco, da utilizzare. Bisogna capire solo con la meccanica che avrà Super Gogeta, se riusciremo a vederla subito. Se riusciremo ad attivarla subito, ecco. Vediamo un secondino. Allora, sapete cosa sto pensando? Che forse non mi conviene troppo attivare già subito la Fusion nel turno successivo. Eh sì, forse non mi conviene. Allora, adesso vediamo un attimo. Vediamo se riusciamo prima di tutto ad attivarla. Perfetto, la riusciamo ad attivare. Allora, sapete cosa vi dico? Che forse non mi conviene. Il motivo ve lo spiego quando lo fondo. Fidatevi di me. Per favore, fidatevi. Meglio non fonderlo adesso. Perché andando a fondere in questo momento il personaggio, noi non andremo a far altro che a perdere... O meglio, potenzialmente ad andare a perdere una piccola parte di meccanica di Super Gogeta. Cioè, oddio, in realtà non è che la andiamo a perdere, però potremmo andare a perderci qualche turno di meccanica di Super Gogeta. Fidatevi, vi farò capire. Fidatevi di me. Non l'ho fatta, diciamo, questa mossa per... Per dimostrare chissà che oppure per chissà quale motivo, ecco. O per sbadatezza o per ignoranza. La sto facendo per un reale motivo. Ve lo spiego. Allora, dobbiamo passare soltanto questa fase. Dopo questa fase, in teoria, dovremmo essere tranquillamente in grado di trasformare il personaggio. Quindi, magari, chiudiamola immediatamente questa, nel caso. Vediamo se riusciamo a lanciare un paio di 18... No. Con Goku Wii... No, con Goku Wii non riusciamo a lanciarla, purtroppo. Non abbiamo nemmeno un'evasione da poter sfruttare per i ki. Riusciamo a lanciarla con Gohan. Quindi, il personaggio ad ability free, con Link Skill level 10, senza buffer e con Veget STR, che è il suo best buddy, ha una base di... Una base, poi, ha un... Se vogliamo, possiamo definirlo tranquillamente, un massimale. Sì, perché non massimale. No buffer, ovviamente. Di 3.800.000 per la 18 ki e 2.300.000 per la 12 ki. Che sono numeri buoni. Non esageratissimi, ma buoni. Soprattutto considerando che dopo 4 turni, 5 massimo, dall'inizio della battaglia, voi riuscite anche ad attivare l'Active Skill e trasformare il personaggio, e quindi farlo andare allo step successivo. Questo qui è il nostro step successivo. Adesso lo fondiamo, e leggendo la passiva capirete il motivo per cui ho deciso di fonderlo all'interno di questo turno. Vai, votiamoci anche l'animazione. Ma definitivo? Ragazzi, vi dicono che è definitivo sto Gogeta, a livello di animazione e tutto. Allora, fermi un attimo. Difesa 128.000. Link Skill, purtroppo che andiamo a perdere. Le andiamo a perdere con Veget non fuso. Quindi quello è un po' un peccato. Andiamo a leggere Super Gogeta e vi faccio capire adesso il motivo per cui ho fatto quella roba. Super attacchi ovviamente invariati. Passiva. Recovery del 30% degli HP, quando ci fondiamo. Attacca e difesa più 150% ed attacco super efficace contro tutti i tipi. Va bene, classico di Gogeta. Grandi chance, great chance, quindi 70% di performare un critico, fantastico. Cambia randomicamente le orb in rainbow di un tale tipo, va bene. Chi più 2 è addizionale per ogni rainbow, chi più 5 così di base ottiene e, attenzione, riduce il danno del 30%. Ragazzi, questa passiva è lunghissima. Ed in più ci fa vedere, ci mostra i super attacchi del nemico, quindi qui noi probabilmente non ne riceveremo mezzo. E nullifica i super attacchi del nemico quando lui lancia la 18 ki, ma attenzione, i super attacchi del nemico però devono essere di tipo melee. Devono essere quindi con questo pallino rosso. Quindi per quale motivo io ho deciso di trasformare questo, di fondere questo Gogeta in questo momento? Perché i Goku precedenti avevano tutti sicuramente delle Kamehameha per attaccarci, quindi delle special di tipo Blast. Invece qui, in teoria, potremmo avere delle melee. Fatemi vedere un attimo queste animazioni, per favore, perché... Direi che abbiamo il super Gogeta definitivo. Cioè, già con il Gogeta fisico comunque avevamo delle ottime animazioni dal punto di vista... Cioè, da trasformato, ovviamente, da fuso. Qui direi che abbiamo proprio il Gogeta definitivo e oltre, a livello di animazioni e anche a livello di potenza. Ragazzi, erano... Va bene con Buffer, ma 4 milioni? 4 milioni? Non linkante benissimo, questo va detto, però ha un po' un problema questo qui, perché o facciamo linkare bene la versione da non fusa, o facciamo linkare bene la versione da fusa. Probabilmente ci conviene di più far linkare a questo punto bene la versione da fusi, perché comunque alla fine è quella che probabilmente, incredibile ma vero, vedremo di più durante la battaglia, visto che è facilissima da trasformare. Detto ciò... Ovviamente qui non vediamo... Ah no, vediamo il super attacco, attenzione, qui lo vediamo e lo riceveremo alla fine, quindi va bene. Allora, sì, vai, andiamo belli dritti. Cerchiamo di non caricare per il Dokkan, perché altrimenti mi rovina un po' tutta. Mi rovina tutta la run con Gogeta. Io voglio provare a vedere la nullifica del super attacco. Melee, ok? Voglio provare a vederla all'interno di questo showcase. Fatemi rileggere di nuovo la carta. Raga, allora la carta di per sé è... Pazzesca, solidissima. Allora, Veget S.T.R. è praticamente una sorta di Veget S.T.R., dove Veget S.T.R. è comunque un personaggio clamoroso. C'ha i counter e tutto il resto. A questo qui mancano soltanto praticamente i counter. Dove però abbiamo, attenzione, la nullifica del super attacco quando è in versione melee, attenzione, quello del nemico. Però ovviamente lui deve lanciare comunque prima la 18 ki. Se non lancia la 18 ki, purtroppo non riesce ad evitare il super attacco. Che è comunque sbroccata come cosa. Ecco, peccato qui. Guardate sta roba. Peccato che non siamo riusciti a shot a sto go. Quindi ci siamo persi un turno. Vediamo se ci fa vedere anche qui special. Allora, fermi, fondiamo. Fondiamo Veget. Fondiamo Veget e vediamo come linkano insieme a sto punto. Spettacolo, spettacolo la host. Allora, vediamo un attimo le link. Bono, 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 bono. Quindi, raga, best buddy assoluto, senza dubbi, sempre Goku e Vegito STR o Vegito STR, come volete chiamarlo. C'è solo questa piccolissima discrepanza che potrebbe crearsi fra la versione fusa e non fusa. 4 milioni e 3. Siamo usati di danno, come potete vedere. Dobbiamo cercare di sfruttare la meccanica della nullifica. Voglio farvela vedere assolutamente. Quindi cerchiamo di sfruttarla per bene. Bellissima, anche la Winscreen vi ho fatto vedere, quindi ottimo. Raga, sono dovuto uscire dalle LGE. Purtroppo sto provando in tantissimi modi ad attivare la meccanica, però, raga, non riesce mai ad andare a segno. O mi lanciano prima special, oppure non ce la faccio, cioè è impossibile. Quindi, come vedete, fin quando noi non lanciamo la 18 ki, purtroppo non riusciamo ad attivare... Oh, fin quando non riusciamo a lanciare prima noi il superattacco, noi riusciamo ad attivare la meccanica. Mi ero dimenticato che non avevamo visto la 12 ki di Gogeta, quindi guardiamocela un attimo. Molto bella, veramente bella, bella, bella. Raga, io purtroppo, cioè, dovrei continuare a ripetizione, a continuare a fare sempre le stesse cose, per cercare di ottenere un'animazione, alla fine, una nullifica del superattacco in animazione. Facciamo così, io direi che possiamo salutarci qui, ma vi lascio subito dopo i saluti, direttamente la clip in cui magari viene nullificato un attacco di un nemico, ecco, da parte di Gogeta. Detto questo, voglio sapere assolutamente cosa ne pensate del personaggio, perché secondo me è fortissimo, forte, forte, forte. Non ne ho idea se sia il personaggio più forte del gioco, ne dubito, però è veramente devastante, soprattutto in rotazione, con VEGETZ e TR creano forse la rotazione più OP del gioco insieme a quella di Super Saiyan 4 e di qualche altra coppia di personaggi. E nulla, fantastico, must pull, non credo, però sicuramente se riuscite a trovarlo, gran cosa. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti, detto ciò vi lascio alla clip finale con la nullifica del superattacco da parte di Gogeta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.